peculato auto riciclaggio e truffa i danni dello stato indagati un dirigente medico oculista due infermieri e un imprenditore a catanzaro tragedia nel reggino travolto da una frana e scaraventato in una scarpata muore un operaio di 56 anni elezioni provinciali a vivo valencia eletto il nuovo consiglio all'ocli per la trentesima edizione della stagione teatrale in scena taggarite ben ritrovati con l'informazione di calabria tv i militari del comando provinciale della guardia di finanza di catanzaro e del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare con la quale il tribunale di catanzaro ha disposto l'applicazione di misure interdittive nei confronti di quattro persone un medico due infermieri ed un imprenditore accusati di associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello stato e di auto riciclaggio un dirigente medico e due infermieri tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria renato dolbecco di catanzaro e un imprenditore cosentino operante nel settore medicale sono stati accusati di associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello stato e di auto riciclaggio in particolare le fiamme gialle del comando provinciale della guardia di finanza di catanzaro e del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri hanno eseguito la misura interditiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi per i primi tre e quella del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per l'altro indagato in quanto il medico avrebbe omesso di versare all'azienda ospedaliera parte dei compensi e ritratti dallo svolgimento di attività professionale in regime di entramene allargata quelli relativi alle visite mediche svolte presso il proprio studio privato per conto dell'azienda ospedaliera. Inoltre con la collaborazione dei due infermieri e servizio presso l'unità operativa di oculistica avrebbe eseguito interventi chirurgici privatamente pur in assenza di specifica autorizzazione sanitaria impiegando dispositivi medici e farmaci sottratti all'azienda ospedaliera che venivano in tal modo autoreciclati e si sarebbe avvalso di false fatture emesse dall'imprenditore per giustificare il loro utilizzo all'azienda ospedaliera. Nell'indagine che non si è ancora conclusa risultano indagate altre tre persone per favoreggiamento personale o reale. Inoltre è stata data esecuzione al sequestro preventivo di due immobili nella disponibilità di uno degli indagati. Tragedia a Reggio Calabria, un uomo di 56 anni, è morto dopo che la sua auto è stata travolta da una frana che si è abbattuta sulla strada di collegamento tra la frazione collinare di Ortì e Gambaria. Un operaio 55enne reggino, Antonio Genovese, è stato travolto da una frana ultimamente transitava a bordo della propria autovettura in località Terreti, una frazione pre-aspromontana di Reggio Calabria ad una manciata di chilometri dal comune di Santo Stefano da Spromonte in località Gambarie. La vicenda drammatica ha visto l'apertura di un fascicolo da parte dei carabinieri del comando provinciale. Secondo la ricostruzione, la frana sarebbe stata provocata dalle tante abbondanti piogge che nella giornata di domenica erano giunte copiose. Nell'area della tragedia, insieme alle altre forze dell'ordine, è arrivato anche il medico legale e anche gli agenti della polizia locale. L'operaio reggino 55enne, Antonio Genovese, era dipendente della società Idroregion. È arrivato anche il cordoglio del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a nome suo e dell'intera amministrazione comunale. Il tratto di strada interessato dalla frana è quello che collega la frazione collinare di Ortì a Gambari ed Aspromonte. Dagli amici e parenti è stato definito un lavoratore attento e sempre disponibile, un tecnico esperto che da lungo tempo operava con perizia nel settore idrico al servizio di tutta la comunità. A lutto della famiglia dell'operaio si sono uniti tutti i colleghi di Gio Region che ogni giorno operano in quella particolare zona collinare della città. A Cutro, un anno dopo il terribile naufragio, ricordate le 94 vittime, inaugurata la Glass House, contenente i resti del naufragio di Steccato. L'opera d'arte per non dimenticare dello scultore Antonio Lagamba, presente anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiudo. La giornata del 26 febbraio è iniziata con la richiesta dei familiari delle vittime di Steccato di Cutro, di vedere rispettate le promesse fatte dal governo Meloni. Intanto hanno dichiarato che muoveranno causa civile contro il governo, mentre la città di Cutro ha colto la Regione Calabria con l'inaugurazione della Glass House davanti il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiudo. La Calabria vuole continuare a rappresentarsi come una regione solidale con quelli che scappano dalla fame e dalla guerra. Lo è sempre stato, è stata la comunità calabrese in questi anni perché ha accolto tanti migranti, non solo in questa provincia ma anche in altre province della Calabria. Io sono molto orgoglioso di governare una regione che ha sindaci e comunità locali che hanno sempre dimostrato grande solidarietà verso chi cerca un futuro migliore. È bello sapere che i calabresi non si sentono proprietari della loro terra. Vivere in un paese dove non c'è la fame, dove non c'è la guerra è una fortuna e non legittima nessuno a ritenersi proprietari di questa terra e quindi inospitali verso chi scappa dalla guerra e dalla fame. Anche io scapperei dalla guerra e dalla fame se a casa mia ci fossero guerra e fame. Tutto questo però non deve indurre a ritenere che nulla si debba fare per arginare i flussi migratori. Il modo migliore di intervenire però è lavorare affinché ci siano investimenti in democrazia e sviluppo nei paesi dove ora c'è fame e guerra, affinché chi vive in quei paesi possa decidere di costruire il loro futuro in quei paesi e non in Europa. Oggi la Calabria si presenta per quello che è una regione straordinariamente solidale che non ha mai fatto polemica sui migranti. Infatti oggi abbiamo voluto organizzare un'iniziativa che dà protagonismo alle emozioni. Nella Glass House saranno contenuti i resti della tragedia di Cutro, ci sarà poi un concerto ed è un modo quindi di far parlare le emozioni perché forse le emozioni hanno un potere più forte delle parole sicuramente, hanno un potere molto più forte delle polemiche. Quindi quest'oggi è il giorno del ricordo, c'è una città che scende in piazza ricordando quei giorni. Ma veramente noi non l'abbiamo mai dimenticato, è sempre indelebile il ricordo di quanto è successo e non vogliamo dimenticare, assolutamente. Perché guai vuol dire far morire due volte le stesse persone, anche perché glielo rubiamo alle persone che sopravvivono, ai genitori, ai familiari che hanno perso moglie, fratelli o mariti che hanno perso, immagino un po', possiamo mai dimenticare. Tant'è che noi abbiamo creato il cimitero islamico proprio per non dimenticare, insomma. Perché deve essere vivo sempre, in ogni momento, il messaggio. La lunga scia di intimidazioni a Cessaniti nel Vibonese impone una reazione forte, reazione da parte di tutta la società a farsene carico le associazioni del territorio. E' la terna prefettizia che sta guidando il comune. Associazioni in campo al fianco dei parroci. Cessaniti è sotto assedio in un clima che ogni giorno diventa sempre più irrespirabile, perché, oltre alle lettere minatorie da pesantire oggi la situazione in paese, sono sopraggiunti anche il tentativo di avvelenamento ai danni di Don Felice Panamara e l'inquietante messaggio del gatto morto lasciato sul cofano dell'auto di Don Francesco Pontoriero. Una spirale di minacce contro la quale i cittadini di Cessaniti si rifiutano e reagiscono tentando di restare uniti e facendo gruppo. Da qui l'iniziativa delle associazioni stesse che si sono riunite in comune per organizzare una fiaccolata di solidarietà per dire basta. I sodalizi hanno coinvolto anche Libera e auspicano il coinvolgimento delle massime cariche provinciali. Sono intenzionati ad organizzare una marcia solidale per ribellarsi alla K che ne minaccia la libertà, considerato che tra i destinatari delle lettere minatorie, oltre ai sacerdoti, sono finiti anche il vescovo del diocesi Attilio Nostro, lo stesso commissario prefettizio che traghetterà il comune sino alle prossime amministrative, Sergio Raimondo, la presidente dell'associazione culturale Crisalide, Romina Candela. Cosa sta succedendo qui a Cessaniti? Purtroppo sta succedendo una situazione un pochettino critica per il nostro territorio, un territorio ricco, ricco di artisti e ricco di cultura, solo che è un periodo non bello per noi. A me è arrivata una lettera con minacce, offese, dove c'erano scritti due punti, erano molto chiari. Una si riferiva al fatto di una mia futura candidatura a sindaco, cosa che io non ho mai, mai aspirato, e un'altra a una presidenza della Proloco di Cessaniti. Tra virgolette, questa Proloco è effettivamente uscita questa notizia proprio per il fatto che in un incontro che abbiamo avuto le associazioni con il commissario, il commissario ha avuto l'idea durante questa riunione di promuovermi come un'ipotetica Presidente della Proloco. Quindi bloccare le attività sociali e culturali è uno degli obiettivi? Sì, sì, sì. E soprattutto bloccare anche le attività che abbiamo fatto con le parrocchie, perché questo è l'intento. Il fatto di avere presso di mira proprio i sacerdoti? E questo è una... su questo non le so dire niente, perché sinceramente siamo tutti sconcertati e non le so dire niente. Adesso questa riunione con il commissario prefettizio? Questa riunione è proprio per organizzare una manifestazione contro questi atti, contro questi atti che sono stati fatti verso i sacerdoti e verso anche la mia persona. Infatti abbiamo l'associazione libera, anche tutte le associazioni presenti con il commissario. Volevo dire una cosa ai giovani, che essere liberi è una cosa meravigliosa, è un ideale la libertà, però per me personalmente è anche un sentimento più dell'amore, perché tra un uomo e una donna l'amore può finire, mentre invece la libertà non finisce mai. E quindi ai giovani voglio dire proprio questo, innamoratevi della libertà, tutto qua. Gestione illecita di rifiuti e scariche di refi industriali senza autorizzazione sono i reati contestati al titolare di un'impresa di Acre da parte dei militari della Nipaf di Cosenza. Durante il controllo è emerso che la società effettuava l'attività abusiva in un complesso aziendale con all'interno due capannoni, uno dei quali adibito ad autodemolizione di veicoli e un altro contenente particolari di auto, batterie esauste, pneumatici fuori uso e contenitori di olio esausto. Altri autoveicoli fuori uso erano presenti nel piazzale antistante all'attività e nel terreno adiacente nella facoltà dell'impresa. Inoltre sono state rinvenute tre vasche interrate colme di liquidi carbolubrificanti prodotti dalle demolizioni dei veicoli e un locale adibito ad auto-officina con annessi uffici. A seguito della mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa per svolgere questo tipo di attività si è proceduto al sequestro dell'intero complesso aziendale esteso su 5.000 metri quadri nel quale sono stati rinvenuti 200 veicoli fuori uso. Cambiamo argomento, a Gioia Tauro nel Regino con le risorse disponibili il Comune ha provveduto ad una parziale bonifica della Ciambra. Ascoltiamo il sindaco. Innanzitutto erano anni che chiedevamo delle risorse economiche alla Regione Calabria per bonificare quell'area. Abbiamo chiesto molto di più rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto 490.000 euro e quindi abbiamo fatti i lavori e tolto la spazzatura per quell'importo. Oltre a togliere la spazzatura che era all'ingresso proprio del quartiere della Ciambra, abbiamo sistemato la rete fognaria, abbiamo sistemato i marciapiedi, abbiamo realizzato la strada, abitumato la strada, abbiamo messo la pubblica illuminazione e anche le telecamere come videosorveglianza per impedire che ci sia un nuovo accumulo di rifiuti in quella zona lì. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare con le risorse che ci hanno dato. Se ci avessero dato di più avremmo potuto produrre una bonifica migliore. Ancora c'è della spazzatura da togliere. Io mi auguro che la Regione quanto prima ci possa dare ulteriori finanziamenti in modo tale da bonificare l'intera area della Ciambra. Qui è un'area un po' degradata. È un'area degradata per due motivi. Prima l'abbandono delle istituzioni rispetto a un diverso controllo del territorio che deve essere più mirato e più ravvicinato nel tempo. L'altro perché anche gli abitanti della Ciambra devono cambiare modo di vivere. Perché tutta quella spazzatura lì ce l'hanno portata proprio a loro. Attraverso i viaggi con le api per 10 euro al giorno, per 10 euro al viaggio, si sono portate una spazzatura in casa. Quindi complice anche i cittadini, onesti? No. Quella spazzatura l'hanno portata loro. Su questo è indubbio. Quindi loro devono cambiare modo di vivere in quell'area e noi dobbiamo vigilare di più perché non si possa produrre quella montagna di spazzatura e di abbandono dei rifiuti, così come è successo nel passato. Dopo un lungo spoglio si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Vivo Valencia, che rimarrà in carica per i prossimi due anni. Quando intorno alle 22.30 il segretario generale dell'ente Domenico Arena procede alla proclamazione ufficiale, tutto appare secondo le previsioni in un equilibrio di forze perfettamente dosato in base al panorama attuale. Praticamente nessuna sorpresa ieri sera durante lo spoglio della scheda elettorale per il rinnovo del Consiglio della provincia di Vivo Valencia durato quasi due ore. Dall'urna è emerso che nell'assise provinciale nessuna delle quattro liste in competizione ha conquistato la maggioranza dei 10 seggi a disposizione. Dopotutto, mentre a Vivo Valencia è alta la tensione politica con i partiti ancora alla ricerca del candidato sindaco da contrapporre a quello che il campo largo del centro-sinistra ha già da tempi individuato in Enzo Romeo, questo apriva un appuntamento atteso per i segnali che avrebbe potuto offrire. Questa dunque è la nuova geografia politica all'interno del Consiglio Provinciale di Vivo Valencia. Il campo largo PD 5 Stelle conquista due seggi portando in consiglio Nicola Lasorba, consigliera del Comune di Ricadi, e Antonino Schinella, sindaco del Comune di Arena. Quella parte del centro che ha invito Pitero, il principale leader, ed è ancora in attesa di individuare il candidato sindaco, offre una prova convincente con la conquista di tre consiglieri. Cosimo Nicola Papa, consigliere comunale di Brognaturo, Alessandro Lacquaniti, consigliere provinciale uscente e consigliere del Comune di San Gregorio, e Giampiero Calafati, consigliere del Comune di Ionadi. Conferma la sua forza, ma senza espluare il centro-destra che ne legge tre. Carmine Franzè, consigliere comunale di Serra San Bruno, Serena Lo Schiavo, consigliere del Comune di Vibo Valencia, e Vincenzo Pagnotta, consigliere del Comune di Pizzo. Ottiene due seggi la compagine azione con calenda e progressisti per la provincia di Vibo Valencia, che raccoglie quella parte di centro guidata da Stefano Luciano, pronta ad aggregarsi con l'altro centro, con un candidato unico da opporre a destra e sinistra. Ad entrare in consiglio saranno Carmine Mangiardi, consigliere provinciale uscente e amministratore al Comune di Sorianello, e Vincenzo Lentini, consigliere al Comune di Limbadi. Il nuovo consiglio provinciale resterà in carica per i prossimi due anni ed affiancherà il presidente della provincia, Corrado Landolina, eletto il 29 gennaio del 2023, il cui mandato complessivo è invece di quattro anni. Forse è il caso di ricordare che la legge attualmente in vigore per il rinnovo degli organi provinciali elettivi, presidente e consiglio, ha scisso le due elezioni ed è una competizione elettorale di secondo livello che consente il voto ai soli sindaci e consiglieri comunali. Il tema della violenza alle donne in una società misogina e patriarcale in scena Locri nel Regino, Taddarite, uno spettacolo tutto al femminile e di grande attualità. Uno spettacolo tutto al femminile e di grande attualità per l'appuntamento della 25esima stagione teatrale della Locri, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale con la direzione artistica di Domenico Pantano. Una pièce che si è svolta a Palazzo della Cultura Locri con in scena Taddarite, testo e regia di Luana Rondinelli con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Manigiu e la produzione del Teatro della Città. Vincitore del premio come miglior spettacolo e miglior drammaturgia al Roma Frange Festival. Il tema proposto è la violenza alle donne in una società misogine e patriarcale. Taddarite è il termine siciliano che significa pipistrelli e racconta il modo in cui tre donne riunite in una veglia funebre fanno trapelare le loro confidenze e l'inconfessabile realtà. Proprio come pipistrelli queste donne hanno sempre vissuto nell'oscurità, violenze e soprafazioni domestiche che nell'arco dello spettacolo trovano la via per manifestarsi. Un'atmosfera a tratti surreale e grottesca e allo stesso tempo ilare come la visione drammatica della vita di queste donne in cui si ride, si sorride e si ha il coraggio di affrontare con sarcasmo ciò che non si era mai osato dire. Un coraggio che è il primo segno di un riscatto, parlare come primo passo per l'affermazione della propria dignità. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito.